Ciao dolcezze, come vedete ho cambiato totalmente il mio look ho fatto lo shatush praticamente dal castano, il mio colore naturale, sulla cute scendendo sulle lunghezze c'è una sfumatura arrivando fino al biondo se vedete che mi svolazza le capelli è perché c'è l'aria condizionata, fa troppo caldo comunque, sono veramente contenta del risultato è veramente veramente bello è stata brava anche la parrucchiera a farlo e quindi vi spiego come funziona allora, praticamente mi ha diviso i capelli in quattro parti facendovi dei codini poi cosa ha fatto? Ha cotonato i capelli, quindi le quattro parti di capelli e mi ha fatto la decolorazione dopo che mi ha fatto la decolorazione mi ha sciacquato per bene i capelli e praticamente me li ha snodati tutti dopo che li ha cotonati ovviamente poi mi ha ripassato il colore per bene per accentuarlo ancora di più li ha lavati per bene mi ha fatto altre maschere, balsami, eccetera eccetera perché sapete che la decolorazione è molto aggressiva e quindi mi ha lavati tranquillamente e poi il risultato da bagnato era già visibile me li ha asciugati quindi mi ha fatto la piega, mi ha fatto la piastra e questo è il risultato continuo a toccarmeli comunque e quindi per chi è interessato a fare questo colore sono quelle le procedure, tra virgolette come vi sembra? ditemi la vostra io mi ci vedo bene, devo essere sincera mi ci vedo molto bene è proprio un cambiamento totale perché io ero castana rossa e quindi sono stata sempre sui colori molto scuri castano, rosso era da tanto tempo che non schiarivo i capelli e quindi ho pensato di fare questo salto di qualità e niente fatemi sapere cosa ne pensate io sono veramente felice devo essere sincera adesso mi ha detto che man mano li laverò proprio nel sole si schiariscono ancora di più e tra un mese e mezzo, anche due do una ripassata che dirvi dolcezze? fatemi sapere se anche voi farete questo tipo di colore scrivetemelo sotto in un commentino ho fatto questo video super breve per far vedere innanzitutto il nuovo look e poi per informare le ragazze soprattutto che vogliono farsi questo colore molto particolare niente dolcezze io vi mando un bacione grandissimissimo e ci vediamo al prossimo video ciao